maestro maestro ora abbiamo un concorrente pericoloso questa pizza è la migliore che abbiamo assaggiato da che luogo viene questa pizza dal luogo chiamato lago di budas lago di budas si è da qualche parte del nord allora è vicino al lago di corno no 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 è molto più a nord villania impossibile disastro mamma mia yes the best pizzas come from lake budasierri from the northernmost pizza factory in the world